Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 21 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Aspettative deluse dalla luna. Con la luna scansa fatica in dodicesima casa, se vi aspettate 100, quando va bene vi portate a casa 50, solo abbassando il tiro e imparando ad accontentarvi oggi riuscite a mantenervi sereni e a non tradire i vostri principi. Con un viaggio romantico in programma, partenza la prossima settimana, pensate di risolvere un problema di coppia, ma se credete che ad addolcirvi bocca e cuore bastino un uovo di cioccolato e una fetta di pastiera avete capito male, il periodo che precede la Pasqua è fatta per la riflessione, è tempo di guardarvi dentro e limare i vostri difetti o almeno provare a riconoscerli. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, i vi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti ecc. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere e la società in cui viviamo. Un parente non si mostra d'accordo con i tuoi modi di fare. Non modificare il tuo modo di essere per far piacere agli altri. Buon nuove in arrivo per email o per telefono, la giornata è interessante e promette una serata in compagnia e gradevole. Oggi potreste avere dei problemi con l'auto o con mezzi di trasporto, piccoli contrattempi potrebbero farvi perdere la pazienza e il vostro abituale autocontrollo. Oggi potreste programmare o pensare a un viaggio, in fondo staccare la spina per qualche tempo vi farebbe sicuramente bene. Ricevendo oggi un consiglio ragionate sempre con la vostra testa, non lasciatevi trascinare dalla corrente dei benpensanti e se avete qualche marachella da nascondere, continuate pure a nasconderla senza confidarla. Cercate di mettervi nella condizione migliore per lavorare meglio e di più, non trascurate i doveri quotidiani. Fatevi promotori di una riappacificazione importante tra due conoscenti, al momento opportuno vi saranno riconoscenti e potrete contare sul loro aiuto. Oggi vi sentirete particolarmente gelosi e farete qualche passo falso. I single possono sperare in una serata piacevole che farà dimenticare la loro condizione. Amore non proprio come desiderate voi, qualche distrazione di troppo nel rapporto con chi vi piace potrebbe provocare disagio e qualche malumore. Non tenete il muso al vostro partner e date libero sfogo solo alla vostra fantasia. Urano continua a sorridervi e specialmente per voi nati nella terza decade, sarà proprio l'astro innovativo, il vigoroso protettore del buonumore di del senso di vitalità che vi abiterà. Soltanto chi di voi sia nato dal 30 agosto al 3 settembre dovrà stare un po' in guardia. Saturno si trova infatti nel segno dei pesci e vi guarda imbronciato. Non vi fate tirare in ballo in situazioni che potrebbero farvi inalberare, senza che neanche ve ne accorgeste. Tenetevi alla larga da polemiche ideologiche, sociali, politiche. Disegno dei moti celesti comunque particolarmente scoppiettante e vivace per tutti voi vergine. Stonati, il cambio di stagione a voi fa sempre questo effetto, doppiamente quest'anno, con la luna imbronciata in dodicesima casa che punta diritto su Plutone nel settore relativo al lavoro e alla salute, guarda caso i punti più caldi delle vostre giornate. E che dire del sole equinoziale appena passato in ariete? Butta bene su risparmi e sesso, per il resto si vedrà. Amore ed Eros. Nervosi con mammina, peggio ancora con la suocera saccente, che vi suona il campanello a tutte le ore e tenta di scoprire chissà quale mistero. Nessun mistero, siete trasparenti come vetri, anche in trasferta per lavoro la fedeltà resta un must. Il vostro un segno perfezionista, ma ricordate che in amore la perfezione non esiste, anzi, è spessissimo una chimera da evitare. Più sensato è accettare la persona e le situazioni che la sorte vi ha donato con serenità e gioioso appagamento. Serata all'insegna di un'intimità di coppia condivisa con fervore e entusiasmo. Chi è all'inizio di una relazione d'amore non si preoccupi se ancora tutto non scorre proprio come in un romanzo. Lavoro e denaro. Preoccupazione che chi si è messo in proprio. Da soli non ce la fate, ma per ora di chiedere aiuto non se ne parla. Benone gli studenti, che riportano ottimi voti agli esami, per chi aspira a un trasferimento o a un master all'estero giungeranno con ferme rassicuranti che vi allargeranno il cuore. Vi attende una continuazione professionale dinamica. Sarete chiamati a interessarvi di persona di un progetto lavorativo che vi vede agire con tutte le vostre competenze e i vostri specifici talenti. Benessere. Mal di stomaco, tipico disturbo del manager, particolarmente insistente negli ultimi tempi. Iniziate abolendo alcolici e caffè, moderazione anche coi fritti, ma se non passa con una punta di bicarbonato e con i prodotti specifici antigastrite sarà il caso di consultare il medico. Denaro. Nella giornata dell'equinozio di primavera siete tentati di provare la sorte all'otto. Giocate i numeri pari, che a voi della Vergine portano particolare fortuna, specie se siete nati dal 29 agosto al 6 di settembre. Per lei, timide e sempre un filo imbarazzate, sembra un'inezia, ma una giustatina all'immagine, un vestito nuovo, un rossetto più acceso, fanno già la differenza. Sentitevi primaverili. Per lui, in corso a esami o trattative non contate sull'intervento della fortuna, dovete farcela e ce la farete, ma da soli. Colore delle emozioni, cannella. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.